Chiusa la partita per la presentazione delle liste, il primo simbolo nella scheda elettorale sarà quello del Movimento 5 Stelle, capitanato da Erika Alessandrini, sorteggiato per primo, e scattata la caccia al consenso dei cittadini di Pescara, con partiti e liste civiche impegnati ad esporre i propri programmi ai cittadini. Nel centro-sinistra il PD propone un mix di rinnovamento ed esperienza, l'inequilibrio tra la continuità con la giunta Alessandrini e la voglia di cambiamento, appoggiando Marinella Sclocco, sindaco. Ci sono tantissime professionalità, tantissime persone che rappresentano la cosiddetta società civile della nostra città, tanti consiglieri e assessori uscendi e quindi crediamo che sia una squadra molto forte e la nostra ambizione è sicuramente quella di confermare il trend nazionale che è oltre il 20% e con queste cifre sicuramente la partita è aperta con il centro-destra e con le altre liste per poi un ballottaggio che insomma diventerà sicuramente un'altra partita. A proposito di ballottaggio, insomma il centro-sinistra in questa tornata si presenta diviso come è anche un po' nella natura delle cose, c'è possibilità di riunire tutte le anime del centro-sinistra poi nella corsa al ballottaggio? Sicuramente ci sarà la possibilità di riunire tutte le forze del centro-sinistra attorno a quella principale che continuo a dire quella sicuramente fatta dal PD e dalle altre liste. A supporto della candidatura di Marinella Sclocco c'è anche l'attuale vice sindaco del comune Giovanni Di Iacovo con la sua lista civica Pescara città aperta. Questa lista ha tre punti di forza, il primo che riunisce le sinistre presenti in consiglio comunale, la seconda è che abbiamo molte novità, molti giovani candidati, molti anni 35, molte persone ha la prima esperienza e vogliono impegnarsi in questa sfida in politica. E la terza è che abbiamo comunque delle rappresentanze di grande esperienza e grande peso di questa amministrazione. Io sono il vice sindaco di Pescara, accanto a me c'è Gabriella Lola Berardi, vice presidente del consiglio comunale, abbiamo anche Stefano Casciano, consigliere comunale e provinciale. Quindi energia ed esperienza, molte novità e molto spazio ai cinque temi principali di questa lista che sono il sociale, il lavoro, la cultura, l'innovazione, l'ecologia. Sempre nel campo del centro-sinistra, ma fuori dalla coalizione della Sclocco, il candidato sindaco di coalizione civica Stefano Civitarese, ex assessore esterno alla mobilità della Giunta Alessandrini, ha presentato i 32 componenti la lista che lo sostiene. Civitarese punta forte sui temi ambientali. Occorre, come diciamo nel programma, una vera e propria rivoluzione ambientale. Occorre che le politiche urbane, anche quelle di sviluppo, perché tra l'altro attraverso l'ambiente si può ottenere anche finalmente uno sviluppo dell'economia che sia verde a tutela dell'ambiente, ma che crea anche sviluppo. Quindi certo, la mobilità è fondamentale perché una città europea, come diciamo sempre, si fonda, basta andare dovunque in Europa, si fonda proprio su una mobilità alternativa a quella dell'uso sconsiderato del mezzo privato. Quindi è una lista molto ricca che offre davvero alla città una vera alternativa per un governo che si basi su questi principi, ma che poi lo faccia con competenza e passione, quello che per 20 anni e più è mancato in questa città. Nel caso si dovesse andare al pallottaggio, insomma il numero dei candidati suggerirebbe questo, è possibile secondo lei una riunione del centro-sinistra? Siamo convinti di poter competere con tutte le altre forze per andare al pallottaggio. Poi si vedrà, noi abbiamo le nostre idee, abbiamo alcuni punti fermi che non sono negoziabili e naturalmente chi vuole venire con noi su questi punti, l'abbiamo detto fin dall'inizio, è ben accetto. Presentazione della lista anche per riconquistare l'Italia, il Movimento Civico Sovranista guidato da Baldini punta sulla sanificazione dell'area, con i mezzi di trasporto pubblico efficienti e su una strada parco dedicata. Tra i candidati che appoggiano Baldini c'è anche Carlo Spatolamaio, ex consigliere del Movimento 5 Stelle a Spoltore.